In cosa consiste il papilloma virus e come si può curare? L'infezione da HPV potrebbe causare il tumore della cervice uterina. L'esperto spiega come curarla ma soprattutto come prevenirla con il vaccino. L'HPV, Human Papilloma Virus, non è un unico virus, ma è una grande famiglia costituita da circa 200 ceppi diversi di virus che infettano l'uomo. L'infezione da HPV è molto comune e colpisce sia maschi, sia femmine. Scopriamo di più su questa patologia. Che cos'è il papilloma virus? L'infezione da HPV è la più comune infezione sessualmente trasmessa nei paesi sviluppati e, ad oggi, è l'unica infezione riconosciuta come causa necessaria per l'insorgenza del tumore della cervice uterina. L'HPV inoltre è coinvolto nella patogenesi di altri tumori, genitali, sia maschili sia femminili, extragenitali, cavo orale, faringe e laringe. È bene sottolineare però che, benché l'HPV sia correlato all'insorgenza di queste neoplasie, soltanto in pochi casi, circa l'1%, l'infezione può progredire verso lo stadio tumorale. Tuttavia, l'attenzione per questa patologia, da parte di medici e pazienti, deve comunque rimanere alta. Quali sono i sintomi nella maggior parte dei casi? L'infezione da HPV è transitoria e asintomatica. È possibile però che, in alcuni casi e in relazione allo specifico tipo di HPV, compaiano, lesioni benigne dell'acute e delle mucose. Condilomi o escrescenze o papillomi a livello delle mucose genitali e orali. Ciò può dare luogo a Prurito, dolore lieve, senso di fastidio. Bisogna fare attenzione a questi sintomi e considerare che la trasmissione e il contagio avviene per contatto. Come si cura il papilloma virus? In base alla sede e all'estensione delle lesioni nel singolo paziente, si può utilizzare l'approccio farmacologico topico, grazie all'utilizzo di specifici preparati in crema, che agiscono sia distruggendo fisicamente la lesione, che attivando il sistema immunitario locale. L'approccio chirurgico, per la rimozione fisica delle escrescenze. Come prevenire il papilloma virus? Benché lo screening del tumore della cervice uterina attraverso l'esecuzione del pap test e del test per l'identificazione del DNA virale siano fondamentali ed efficaci per la diagnosi precoce, la vaccinazione è l'unica strategia risolutiva per prevenire il contagio con l'HPV e di conseguenza l'insorgenza delle lesioni di cui è responsabile, siano esse benigne come i condilomi, o lesioni potenzialmente tumorali, sia genitali che in altre sedi anatomiche. È dimostrato, infatti, che una diffusione capillare e adeguata della copertura vaccinale, intorno al 90% della popolazione target, è in grado di eliminare il tumore cervicale. Inoltre, un'adeguata adesione alla vaccinazione permetterà anche la scomparsa di tutti gli altri tumori correlati con l'HPV. Ecco qualche informazione in più sul vaccino. Dal 2008 vi è stata l'approvazione dei vaccini per la prevenzione primaria dell'infezione da HPV e la loro introduzione in Italia nelle pratiche vaccinali correnti. La vaccinazione è fortemente consigliata e gratuita fino ai 12 anni di età in entrambi i sessi, ma dati recenti evidenziano che il beneficio della vaccinazione si estende anche alle fasce d'età adulte, fino ai 45 anni di età e anche oltre. La vaccinazione è stata anche dimostrata sicura ed efficace in caso di avvenuto contatto col virus HPV per rafforzare il sistema immunitario nell'eliminazione dello stesso. Iscriviti al canale per avere a portata di click sempre nuove curiosità. A presto!